E' l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala Sui sentieri differenti, ecologici e coerenti Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Siamo tre amici Ci conosciamo da quando siamo ragazzi Abbiamo fatto tre percorsi di studio e lavorativi diversi E poi ci siamo ritrovati a un tavolo, un po' più grandicelli Abbiamo voluto fare azienda per provare a creare qualcosa qua in Sardegna Che non ci portasse a dover scappare, a dover trovare fortuna altrove Per mettere a regime le nostre tre competenze diverse Andrea viene da un'area di competenza informatica Io Marco la collega di comunicazione Enrico invece commerciale e amministrativa E abbiamo deciso di buttarci nel mondo delle escursioni Siamo i primi che quando volevamo fare qualche escursione Avevamo difficoltà a trovare su internet O comunque numeri di telefono per contattare le guide Cosa fare, non fare, prezzi, via dicendo E non da ultimo la cosa più importante è prenotarle Quindi abbiamo deciso di creare un sito che le raccogliesse tutte quante Cioè tutte le proposte outdoor di escursioni di tutti i tipi Da quelle legate alla costa e al mare A quelle all'entroterra, a quelle legate alla cultura Con la novità è che fossero prenotabili in maniera semplice Direttamente online Come si prenota una camera d'albergo O un biglietto d'aereo E quindi questo è il cuore Far rete e dar l'accesso a tutte le tipologie di turisti Ma poi hai ovviamente degli strumenti per avere una ricerca avanzata Che ti la fa filtrare o per luogo o per tipologia Quindi vai a controllare se quella tipologia all'interno di Escursi Che è un intermediatore online Ovvero che ti mette in diretto contatto con solo professionisti Poi guida esperte per la tipologia o per il luogo che vuoi scoprire Se c'è tu ti ritrovi dentro una pagina che ti spiega tutte le informazioni La nostra attività si estende in tutta la Sardegna Ci appoggiamo a dei professionisti Comunque tutte o guide iscritte all'albo O comunque società che si occupano di questo Escursi nasce nel 2015 Il 2017 invece è stato un po' l'anno della prova reale Abbiamo movimentato più di 2000 persone Ad oggi Escursi si può dire che inizia ad essere un tra virgolette In maniera comunque piccola un po' una realtà in Sardegna Adesso sono le guide che ci contattano per iscriversi al portale Escursi vanno da più di 150 partner Quindi per partner intendo guide abilitate che fanno questo di mestiere E società che si occupano di questo Poi abbiamo più di tre collaboratori che ruotano intorno a noi E questo comunque ci fa ben sperare che la strada che abbiamo intrapreso Comunque è quella giusta Che si può lavorare comunque in Sardegna Sul mondo delle escursioni durante tutto l'anno La cosa bella poi è stata anche che alla lunga appunto l'unione E il conoscere tutte queste guide e comunque operatori Ci ha concesso anche proprio la possibilità con loro Comunque di studiare nuovi percorsi Nuove idee, nuove tipologie E con molti anche metterli in contatto E quindi unendo comunque la proposta di uno Con quella di un altro operatore E abbinando comunque diverse tipologie di servizi All'interno della stessa giornata La realtà della Sardegna è molto particolare dal punto di vista lavorativo E se diciamo uno si aspetta di avere un'opportunità È più difficile Ad oggi il nostro futuro è qua Doveva essere qua e abbiamo iniziato a metterci in gioco Comunque per creare una nostra realtà qua in Sardegna Quindi abbiamo già tracciato la linea E quali saranno anche gli obiettivi per i prossimi anni Vedo un'Italia che sta cambiando Per lo meno che si ha voglia di sfruttare quelle che sono le potenzialità Per lamentarsi è facile, ci vuole poco Quindi più che altro è meglio vedere le cose positive che ci sono E far leva su quello L'Italia che cambia per me è il non rassegnarsi E magari reagire a quelle che possono essere le difficoltà che ci si presentano Ma sotto tutti gli aspetti I giovani devono iniziare a mettersi in gioco realmente E a crearsi loro il proprio futuro Senza aspettare che arrivi da chissà dove Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi